Sporco Sconveniente Irritante Incazzato Magari qualche risato Ma senza peli sulla lingua Se per quella che è in testa Ben ritrovati a Sporco Il vlog inutile Lorenzo Cherubini Giovanotti Ma perché esiste? Ai tempi di 1, 2, 3 casino La mia moto Volevo sinceramente Mettergli le mani addosso Ma ero giovane Preferivo passare le vie di fatto Piuttosto che ragionare Poi improvvisamente Diventato un guru Uno impegnato Endorseman della sinistra E veniva chiamato Per le cose importanti Ne ricordo una con terrore Tributone a Fabrizio De Andrè Su Rai 1 Lui in collegamento Dal cimitero di Spoon River Purtroppo vivo Dove in acustico Suonando la chitarra Dopo aver letto Tutta la notte Chitarristi in 24 ore Ha demolito Senza ritegno Alcuni brani Di Fabrizio De Andrè Cosa peraltro Diffusissima Tra tutti i suoi colleghi Ecco Anche dopo 35 anni Con la maturità raggiunta Ho ancora voglia Di melare le mani Ora poi la svolta ecologista Tour sulle spiagge A impatto zero E suba zero In Liguria L'ultima volta È saltato tutto Per una mareggiata Temo che a questo giro Non saremo così fortunati Dimolato da alcuni Vostri commenti Voglio parlare Di dittatura sanitaria Esiste in Italia Una dittatura sanitaria Se vi riferite Alle liste infinite Per ottenere una visita In ospedale Liste che scompaiono Se la stessa visita La fate in Intramania Intramania Tra l'altro a me Fa venire Vrestelmania Welcome to Intramania Intramania vuol dire Che paghi lo stesso medico Per la stessa visita Ma privatamente Però lui usa Mezzi e locali Dell'ospedale Geniale Se vi riferite A una macchina Per la risonanza magnetica Rotta per mesi Che costringe Chi ne ha bisogno A pagarsela in privato Se vi riferite Alle ore di attesa Per una qualunque Prestazione di pronto soccorso Se vi riferite Alle difficoltà quotidiane Che affrontano Medici e infermieri Ieri eroi Oggi esercito Al soldo del complotto Allora sì C'è una dittatura sanitaria La dittatura Di chi ha tagliato Tutto quello Che si poteva tagliare E anche un po' di più E che la pandemia Ha solo messo in evidenza È la solita mafietta Ma che palle E comunque Visto e assodato Che in Italia C'è la mafia dappertutto Ma non potevamo essere Esterofili anche in quello Voglio dire Non sarebbe meglio Ad esempio avere La Yakuza Sono più elegante Dieci volte più spaventosi Hanno dei tatuaggi bellissimi Non qui mamma Perdonami Fate a cazzo Eh ma non capiremmo Un cazzo quando parlano Ma perché Senza sottotitoli Avete capito qualcosa Di Gomorra Tutti i giorni Guardo almeno due telegiornali E l'unica cosa Che ho capito Dei giornalisti È che si divertono A spostare gli accenti Kabul è diventata Kabul L'Ucraina è diventata L'Ucraina Kiev è diventata Kiev Presto la Turchia Diventerà la Turchia Sì insomma Spostano gli accenti Come dei Max Pezzali qualunque Ma a noi tanto Va bene tutto Psicologia applicata Trovare la leva minima Che ti fa fare Anche ciò che non faresti Sapete cosa serve L'euro nel carrello A evitare il furto Penserete voi Ma no Il carrello vale Molto di più di un euro Certo bisogna trovare Un ricettatore L'euro nel carrello Serve a farlo Rimettere al suo posto Quando i carrelli Erano liberi La gente li lasciava A cazzo Nei parcheggi Nel supermercato Aior Ropa La soluzione La moneta che sblocca La catenella del carrello Certo bisogna capire Il valore della moneta 10 e 20 centesimi Non erano sufficienti 20 centesimi È il prezzo Della nostra maleducazione Le monete devono essere apprezzabili 1 euro 2 euro 50 centesimi Ecco 50 centesimi È il prezzo Del nostro senso civico Veniamo via con poco A noi italiani Ci compri con due spiccioli Chiudo con una breve Personale storia triste Dialogo con me stesso Devo essere più convinto Delle mie capacità Gli ostacoli che vedo Alla fine Si materializzano Perché io li vedo Basta Da oggi si cambia Da oggi sarò una roccia Tanta decisione è sospetta in me Cosa starò tramando Fine Ci vediamo la prossima settimana O intanto Come ben sapete Io ogni tanto da qui esco Per andare a fare gli spettacoli Ci vediamo al teatro Jolly di Castel San Pietro Il 18 febbraio E alla sala del suffragio Di medicina Il 19 febbraio Sporco Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti